Collegamento con Silvio Berlusconi. Io non lo so, io non lo so in che paese viviamo, io non lo so, ma come si fa, guarda, come siamo caduti in basso, credo, questa Italia non la riconosco più, non è più la mia Italia. Assolutamente, per fortuna. Salve, 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 sono un po' triste, sono un po' triste, perché l'Italia veramente sta attraversando un momento di grande tristezza. Difficile, lo so, grazie al governo Monti veramente è diventato, è un paese che non lo riconosco più, sono triste, perché non dovrei essere triste? E oggi è la sua festa, 26 anni di Milano. 26 anni fa acquistai il Milano, grazie per avermelo ricordato. Le facciamo vedere una foto. C'è anche una foto, ma che gentili, grazie. Oh, che bella, guardate, guardate come ero anziano, 26 anni fa. Guardate quante lunghe che adesso sono più, come passa il tempo e come si diventa giovane adesso. Sì, 26 anni fa pensai di scendere in campo ed acquistare il Milano, poi qualche anno dopo pensai di scendere in campo ed acquistare l'Italia. Sì, che bei tempi che abbiamo trascorso insieme, bei tempi di Spencer Latteccia, le cose andavano bene, invece adesso... E allora... Niente, sto cercando di convincermi a questo nuovo paese, ma non ci riesco... E' un cambiamento? E' Bersani, Bersani, quel comunista Bersani ha avuto il coraggio di affermare che la figlia tra il ministro Fornero e Belen preferisce la Fornero. Io non lo so, ma come si fa a dire una cosa del genere? Io guardo le foto, cerco di convincermi, ma aiutatemi anche voi. Allora, questa è la foto della Fornero, eccola qui, l'inistruenza Fornero. E' quella che si commuove. E invece, quest'altra qui è la foto di Belen Rodriguez. E' quella che noi si commuoviamo quando la vediamo. E ho messo solo la parte di sopra, non lo faccio vedere la farfallire di Sanremo. Dunque, come si fa a dire che la figlia preferisce la Fornero? Eh, lo so. Vogliamo far partire il televoto per capire voi cosa preferite? No, non è caso. Che paese è questo dove una ragazza preferisce essere un ministro brutto come Elsa Fornero e non una bella farciulla come Belen? Che poi poteva diventare ministro se c'era la figlia di Bersani preferisce essere la Fornero. E il figlio preferisce Belen o la Fornero? Il figlio di Bersani. Ma io non lo so. Pensate che la figlia di Bersani è talmente brutta che gli italiani tra la figlia di Bersani e la Fornero preferiscono la Fornero. Addirittura si brutta la Fornero. Pensate che paese io cerco di convincermi che la Fornero è più bella di Belen, ma non ci riesco. E' un paese che è caduto in basso. Me ne vado afflitto e derelitto. Eh vabbè non faccio così, è cambiato. In pochi mesi l'Italia è cambiata per l'appunto. Adesso si tende anche a...